Tre cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia di Pistoia al termine di indagini iniziate a luglio in flagranza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In pratica una organizzazione che si occupava di caporalato per reclutare braccianti. Per gli inquirenti sfruttavano stranieri, in gran parte africani, richiedenti asilo, nei vigneti negli oliveti a Pistoia ma anche in provincia di Lucca, Prato, Firenze, Siena, Arezzo e Pisa. Per lo stesso reato denunciate altre tre persone, due stranieri e un italiano. La polizia ha sequestrato quattro furgoni con cui trasportavano sui luoghi di lavoro la mano d'opera che veniva retribuita con circa 4 euro effettivi.